E' nostra! Il primo trofeo dell'anno è per Conegliano, dopo l'ultimo scodetto continuate a vincere. Sì, posso dire che abbiamo aperto stagione un bel modo, abbiamo fatto vedere due set primi, penso una pallavola molto bella. Poi ci siamo un po' spenti e penso che come squadra abbiamo strinto tutti insieme, abbiamo portato a casa vittoria. Grazie anche a tutto questo bellissimo pubblico che è sempre un giocatore in più per noi. Eravate un po' scoraggiate quando Novara ha cominciato a giocare bene? Abbiamo smesso di giocare, sì. Sappiamo che anche di altra parte un avversario molto forte, con un roster mondiale, non si aspettava sicuramente partita facile. Però alla fine oggi siamo stati più bravi noi. L'intesa con la Volosch è sempre più perfetta, sembrate proprio l'unica cosa. Sì, penso che anche dopo tutto questo, dopo l'anno scorso che ci abbiamo fatto vedere belle cose, quest'anno vi facciamo vedere ancora più belle. Dove può arrivare questa squadra? Molto alto, penso che c'è tanto spazio per migliorare. È stagione lunga e facciamo vedere belle cose.